Il grande Modigliani aveva iniziato i suoi studi artistici a Pietrasanta come scultore agli inizi del Novecento. Una palina informativa per ricordare questo passaggio è stata posizionata dall'amministrazione comunale all'ingresso della centrale via Mazzini, lato piazza Statuto. Qua Modigliani venne ospitato durante il suo soggiorno in città per imparare dai maestri artigiani. L'artista aveva scelto la città di Pietrasanta perché era considerata, grazie alla maestria dei suoi artigiani scalpellini, la patria della lavorazione artistica del marmo. L'iniziativa, con lo svelamento della palina, si è tenuta alla presenza del sindaco Giovannetti e di Lorenzo Belli, giovane studioso ed appassionato di storia, che ha raccontato in una pubblicazione il frutto delle ricerche su Modigliani a Pietrasanta. Sappiamo appunto dalla corrispondenza che ha avuto Modigliani che risiedeva qui in via Mazzini ex via Vittorio Vento da una famiglia di scalpellini e che questa residenza qui era la base per le sue escursioni verso le cave di marmo per cercare appunto il famoso bianco cui ambiva a scorpire.